salve a tutti buon lunedì e buon inizio di settimana ecco scusate ecco sistemato un po il rumore della dell'aria spero che state bene come dico sempre che la vostra vita scorra non dico perfettamente perché la perfezione non esiste per nessuno ma che sia abbastanza piacevole nelle proprie scelte ci rivediamo dopo un po di tempo perché ho avuto da fare diverse situazioni quindi dovevo concentrarmi su diverse cose ho dovuto e quindi io mi isolo quando è così per una necessità di concentrazione perché o ci si concentra su qualcosa o non si fanno le cose per bene oggi vorrei parlare c qui da oggi lo dico anche c'è oggi mi sono messo che a parlare con cioè con voi di nuovo e poi peraltro per quanto riguarda le domande tutto perché so che appunto essendo in un periodo di di silenzio vi do certi suggerimenti vi direi di iscrivervi a iscrivervi al canale telegram info sapiens chiocciola info sapienza monia canale con tutte le notifiche e i contenuti esclusivi 2 se non si usa telegram è possibile ricevere le notifiche su whatsapp inviando un messaggio il numero più 66 numero collegato a me 99 390 88 33 scrivendo attiva 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 3 per domande chiarimenti potete mandare messaggi su telegram a chiocciola anticus ordo fenix che è tutto scritto qui tra l'altro e quindi potete tranquillamente avere queste cose qua oggi ok parlerò della pietra di fuoco ecco è tutto qui che sta apparendo direttamente mentre lo dico così potete copiare se siete interessati se no c'è nessun problema allora volevo parlare dei di questo incontro questo evento che farò dal 15 marzo e da cui ho messo anche la descrizione direttamente su su facebook instagram ne parlerò anche qui eccetera ma non parlerò solamente per fare far conoscere questa cosa sarebbe una cosa troppo riduttiva non è neanche nelle mie corde farà una cosa non sono una persona che si fa pubblicità faccio conoscere quello che devo fare poi non scelte di fare quello che vuoi e quindi però è molto importante andare a capire che cos'è quello che viene dato fermo restando che per coloro che non hanno mai fatto alchimia io spingo a fare almeno qualche lezione di alchimia vegetale quindi prendete una lezione due lezioni o comprate il mio libro mercurio insomma dovreste riuscire a saper usare almeno il sox let o il distillatore scegliete voi se di rame o di vetro per cominciare poi coloro che già hanno fatto alchimia da altre parti va bene o anche spagiria perché fare l'alchimia molto complicato la maggior parte dei con parte dei corsi che io sono andata a vedere un pochino in giro perché come per vedere dicono alchimia ma parlano di spagiria o per esempio si chiama vengono a chiamare alchimia delle sciocchezze tipo la creazione di profumi da vendere oppure di tante stupidaggine guardate ci sono alcuni che parlano di alchimia per i mobili vabbè quindi andiamo a capire che tutti fanno spagiria o spagiria quindi piante pietre metalli cristalli più che chi più ne ha più ne metta ma l'alchimia è una cosa molto differente e perché l'alchimia è qualcosa che se vogliamo ha delle procedure molto particolari quindi chi non ha mai fatto nulla consiglio di prendere un qualsiasi libro di spagiria imparare almeno a distillare prendere il mio libro prendere una mia lezione non tutte 12 di un corso una ne basta per vedere due per capire va bene farò in modo che quando ci sarà l'incontro sarà passato un'oretta a spiegare i fondamenti anche perché verranno delle persone da da molto lontano che magari non hanno neanche mai fatto questo e quindi è giusto che ci sia questa base o quindi ma cos'è quello che andremo a vedere la pietra di fuoco beh la pietra di fuoco viene chiamata spesse volte pietra di secondo grado la pietra di primo grado io la insegnai e chi la rifatta o ha l'idea di rifarla e si mette a lavorarla e la porta addosso o la usa quando serve con la discriminazione che serve nell'usarla ne vedrà le le proprietà terapeutiche sia per la psiche che per il corpo fisico c'è un video molto esplicativo di quando feci anni fa questa pietra prima di partire in cui al suo venir fuori in cui c'era il crogiolo spaccato c'è il video c'erano le persone al suo venir fuori e quindi a al suo nascere andò subito ad aggiustare il crogiolo che da spaccato visibilmente torna ad essere intero un crogiolo di fatto di una certa pietra particolare che è che si spacca così facilmente e quindi che si va poi a ricostituire completamente è vero sono ancora qua bene questo volevo dire quindi quella della pietra primo grado che serve a sistemare ora a livello esterno non è che noi ricerchiamo il miracolo perché in alchimia l'apparizione di una risultanza esterna non deve essere altro ed è solo la presentazione di una capacità dell'operatore di aver raggiunto dei piani interni interiori quindi un'ascesa che gli dia la capacità di manipolare in certe condizioni la materia perché come insegnavo e insegnato per anni quando la materia viene posta in certe condizioni la materia è suscettibile di essere manipolata e trasmutata ora io non sto parlando della semplice trasmutazione di cui tutti parlano e che venne usata come specchietto per le allodole per coloro che volesse volevano mettere dei problemi all'alchimia in sé per sé ossia la trasmutazione del piombo in oro tra l'altro non parlo neanche di alcuni fisici che hanno provato a fare questo riuscendoci ma con piccole misure ma a dispendio di tanto tempo a dispendio di tante risorse per esempio un chilo di mercurio 10 grammi di oro no parlo di quindi perché perché era tutto basato su ciò che il fisico stesso pensa come la base della materia ossia gli elettroni i protoni gli atomi i quanti non è così pensate che per quanto riguarda l'alchimia i quanti e ancora qualcosa di più piccolo sono la parte più densa della materia quindi la materia in sé perché per l'alchimia sia un quanto sia un una particola ancora più piccola particella ancora più piccola sono già materia e sono simili a una roccia sono simili a una persona non c'è distinzione viene chiamata distinzione magnetica nella materia o di magnus ossia magnetica quindi cos'è una pietra di fuoco una pietra di fuoco è innanzitutto una capacità di avere una materia coagulata fatta con le proprie costituenti materiali adatte e di conseguenza che ha la capacità di rimanere di fuoco per molto molto tempo anzi per sempre ora bisogna però per capire che la terminologia e togliere un pochino il cappuccio della segretezza a queste cose mi rivolgo anche a una persona che giorni fa ieri o l'altro ieri ha scritto su facebook dicendo che io parlando di argomenti così alti a tutti li svilisco e ne tolgo la preziosità mostrando un certo senso di forte gelosia per i misteri ok io capisco però io sono venuto apposta per questo di là che ci si possa credere o meno si sarà un esplosione ancora maggiore su questo dopo la mia di partita quindi come sempre accade c'è questo salire 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 e poi quando il trasmettitore scompare c'è il picco quindi e diciamo che ci sarà un certo ringraziamento perché ho parlato parlo molto più chiaro di tante persone quindi a questa persona dico in alchimia si è o gra o ingrati o compassionevoli io sono uno dei più compassionevoli in queste cose e quindi mi sento e son venuto sono stato mandato per fare questo quindi per dire questo la pietra di fuoco mette in movimento il corpo lunare perché avendo risposto a questo andiamo a tornare un attimo indietro e capire perché pietra di fuoco no beh la nomenclatura dell'alchimia si basa sui quattro elementi e i tre principi quindi i tre principi sono zolfo mercurio e sale per l'alchimia che non sono lo zolfo mercurio e sale comune mentre per per gli elementi sono gli elementi che noi vediamo ora non è che abbia che avete in mano una pietra infuocata e infuocata in sé in termini sottili c'è del senso che è totalmente impregnata di una certa tipologia magnetica perché nell'alchimia pietra si indica corpo ma non corpo soltanto fisico quello diventa il sale o quello che ne rimane ma un completo quando in alchimia si dice pietra si sta ad indicare un corpo che da corpus c'è una cosa completa un corpus tutto ok quindi che contiene tutto quindi pietra per gli alchimisti è un mondo creato e ricreato per ricreare se stessi l'alchimia ricrea se stessa in quattro maniere differenti o con tecniche solamente fisiche o con tecniche magnetiche o con tecniche spirituali o con tecniche divine le tecniche divine sono connesse alla luce solare alla potenza del sole vi ricordo che in questi ultimi giorni è arrivato sulla terra un flash solare molto potente che non si vedeva da molto tempo di nome amaterasu come la dea giapponese e questo indica ahimè per l'élite ancora un influsso molto potente per le persone che fino adesso sono state bloccate nella loro consapevolezza quindi un salto di coscienza ancora di più perché dal sole viene la coscienza e l'intelligenza la lucidità che quindi questo ve lo volevo dire quindi è molto importante quindi per fuoco indica lo stato plasmatico della materia ora non puoi avere lo stato plasmatico della materia ma puoi mediante questo stato plasmatico fuoco portata a un certo grado in certi momenti e situazioni dare un'impronta a un corpus e di conseguenza investire completamente la materia stessa e lasciarne l'impronta magnetica del plasma dato quindi direi una specie di ridire ridirezionamento ionico degli ioni che sono direttamente proiettati negli stati di fuoco quindi nell'alchimia il fuoco non è quello visibile ma è quel campo magnetico potente che noi chiamiamo nei corpi fisici corpo eterico e che quindi è un quel vento calore che viene emanato direttamente dalle stelle dai soli dalle particelle cariche di ioni e quindi dal fuoco in sé per sé come noi lo vediamo se elaborato in una certa maniera in determinate maniere e per un certo periodo di tempo si giunge ad avere una pietra quindi un qualcosa diciamo così un quindi un agglomerato di qualcosa ripete come corpus fanno uguale che vanno a restituire direttamente alla persona la forza magnetica plasmatica eterica è come avere in mano un piccolo sole che vogliamo infatti è massimamente energetico massimamente forte massimamente toccante la parte magnetica dell'uomo ora per poterci un pochino comprendere si dice che il sole solitamente no che fa influenza tutti i pianeti che gli girano intorno per chi crede a questa a questa teoria nell'altra teoria sole è in pratica quello che illumina la cosiddetta terrapiana quindi tutti gli altri oggetti che ci sono nella cupola scegliete quello che volete non ha importanza per l'alchimia zero l'alchimia è superiore a questo di conseguenza che succede succede che rigenerando eric quindi con la sua parte eterica quella sua corona particolare di conseguenza che cosa accade c'è un flusso magnetico che potete anche tranquillamente vedere in in riprese quelle vere perlomeno non fatte al cgi di scambio tra terra e e sole quindi è questo scambio tra terra e il sole nella nell'incontro che faremo noi lo faremo come scambio tra fuoco sole e persona qui terra ok l'alchimia come diceva fulcanelli basta andare all'ultima pagina del mistero delle cattedrali diceva una cosa molto chiara che pochi riescono poi a ricordare l'alchimia scimiotta i procedimenti della natura facendo e rifacendo fino a raggiungere la perfezione nell'istante che questi processi hanno un risultato può succedere anche che li rifai mille volte può succedere che sei fortunato li fai tre volte può succedere che li fai cento volte però è un ripetere perché perché la natura si ripete tra l'altro è molto interessante una cosa in questo periodo un po di confusione di generi di confusioni maschili e femminili di rivendicazioni no un pochino cioè giuste per quanto riguarda gli equilibri di vita e di diritti e doveri che di questo tentativo di cancellazione dei generi sessuali beh maria l'ebrea che colei che la fondatrice dell'alchimia se vogliamo se noi andiamo indietro nel tempo noi troviamo che io sempre detto che parto da lì la mia alchimia viene da lì nel tempo è la prima che trasmette queste cose maria l'ebrea pensate una donna in un completo campo che si può dire che tutto maschile tranne le soror che ci sono state per aiutare o per lavorare insieme non per aiutare i propri compagni d'opera o o magister tipo per esempio la moglie thomas vaugan eugenio sfil aletes oppure la moglie peperenelle no la moglie del dell'alchimista francese flamel e altre che sono poche oppure la moglie di ciliani oppure la 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 domestica e le domestiche del principe di sangro eccetera più che ne ha più ne metta bene questa eh donna eh Maria l'ebrea da cui abbiamo il bagno Maria l'impronta altissima disse una cosa molto chiara all'inizio della sua esposizione dove potete leggere trovare un libro eh i discorsi sull'alchimia di Maria e di Maria con il 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 dio oru il dio il re orus in Egitto e quindi qui lui lei alla richiesta da parte del re mi dici in una parola per cortesia qual è il segreto dell'alchimia e Maria risponde unisci il maschile il femminile e il mistero lo troverai nella loro unione che porterebbe due materie non solo fisiche non solo sessuali fisiche ma in generale nell'universo bene in un periodo di distruzioni del maschile e del femminile per rimanere in un indeterminato noi non facciamo altro che vedere noi alchimisti gli altri non lo so un tentativo uno dei peggiori che ci possa essere da parte della contro iniziazione per proprio deviare da questa conoscenza attenzione perché molti dicono sì ma la eh vabbè lasciamo oltre si va troppo in fondo e quindi magari poi poi vengo pure censurato però questo per dire è molto bello da da andare a a vedere in questo periodo qual è il fondamento dell'alchimia unire due materie una maschile e una femminile se non ci sono queste due materie una maschile positiva l'altra eh c'è passiva femminile non funziona nulla quindi questo è il mistero dell'alchimia da quello che ne viene fuori e di conseguenza ecco che noi nella costruzione della pietra di fuoco pietra di secondo grado perché la pietra di primo grado va a toccare il corpo fisico la pietra di secondo grado come ho detto va a toccare il corpo eterico quindi magnetico quindi di fuoco noi da quest'unione abbiamo un terzo corpo magnetico che è rappresentato come un bambino per quanto riguarda eh le tecniche eh le rappresentazioni nascorse dell'alchimia perché ripeto è facile come come giocare l'alchimia se si stanno i principi però è di conseguenza è come dare un bambino non la pistola che può sparare di fronte una bomba un plastico che può scoppiare solamente muovendolo così no quindi leggete il mattino dei maghi per esempio di Powell e Berger per capire di cosa stiamo parlando quindi noi andiamo a ripercorrere questa cosa andiamo e andiamo a toccare quella parte eterica ecco perché ho detto è importante che le persone siano almeno in buona salute che non abbiano avuto eccessivi disturbi nervosi se li hanno avuto siano guariti e è importante che non prendano droghe eh vabbè uno se che ne so usa quello che oggi viene chiamata la cosa ricreativa a proposito di chi usa le cose ricreative sappiate che rimangono nel corpo per centinaia d'anni quindi hello Ouroboros e saluti a tutti dico hello Ouroboros perché è molto presto no c'è da quelle parti penso quindi che ore sono da dove c'è questa persona sono l'uno e mezzo no sono le quattro e mezzo di mattino quindi grazie di essere qui questa persona Ouroboros si alza alle quattro di mattino per sentirmi quindi grazie thank you Ouroboros for waking and listen me ok hear me thank you ma grazie anche a voi che siete qui quindi anche di mattina grazie veramente però mi sembrava doverosa questa cosa è molto importante non essere solo un collettore di cose ma anche dare amore quindi in questa maniera noi andiamo a toccare il corpo eterico ma che cosa andiamo a fare cos'è sto corpo eterico bene come ho detto spesso se mettete la mano di fronte a un qualcosa di scuro di bianco si vede intorno una specie di emanazione thank you ok questo è il corpo eterico in a in in oriente quando si parla di chakra no significa che sono posti nel corpo eterico non sono nel corpo una sono una specie di porta no quando si parla di astrologia e quindi non di astronomia ma di astrologia noi sappiamo di avere che fare col corpo eterico di conseguenza cominceremo a dicembre se siete interessati a gennaio quando chi è interessato al corso di astrologia c'è di astronomia di la parte divina astrologia la parte centrale eterica astro sofia la parte più interna più interiore più diciamo anche psicologica se vogliamo e particolare di conoscenza come ho spiegato quindi dice diceva che proprio dedico fare altri corsi per altri corsi no ho detto di comprare o il mio libro sul mercurio così di alla fine c'è la spiegazione di come si fa o le notti alchemiche in cui c'è laboratorio o di comprarsi una una si chiama una lezione del mio corso sulla sull'alchimia vegetale oppure di andare su youtube e vedere come si fanno le distillazioni ma farle cioè farli fisicamente almeno qualcuno va bene tanto avete tempo fino a marzo per forza da potete comprare quello che volete però quello allora noi quindi andiamo a toccare il corpo eterico nel corpo eterico si deposita tutto si depositano le persone si deposita con i loro pensieri si deposita il magnetismo della gente si deposita tutto ciò che è la mente e l'energia delle persone specie quando si fa sesso sesso sapete che io per me non è la parte finale del sesso quello è coito un po differente per me e quindi per l'alchimista sesso è solamente già uno sguardo quello sguardo è già sesso perché i di conseguenza i due corpi eterici si muovono si allargano pratica se tu stai qua e uno sta qua e questo guarda o questa quello che sia e c'è una risposta i corpi eterici che stanno qui si allargano e si toccano puoi stare anche un chilometro di stabile 100 metri e anche distante 10 metri bene si allarga c'è proprio un andare verso e quindi ci si incontra metà strada e per quello che ci si ricorda quella ma guardato quello ma guardate ora questo si allarga ma ancora di più durante gli stati di eccitazione di agitazione di ballo di danza di preghiera di rituale di meditazione bla 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 figuratevi nelle discoteche figuratevi negli stadi non per niente molti maghi caotici come dicono spesso vanno a vedersi le partite allo stadio non perché gli interessano le partite o vanno in discoteca non perché l'interessa di fare di scemi in discoteca essere persi ma semplicemente per sfruttare l'ignoranza di chi ci va e la perdita delle loro energie per sfruttarle per la loro magia e ci riesce ci riesce molto veramente perché tutti buttano la propria vita si potrebbe campare come minimo 20 30 40 anni in più sto scherzando noi non campiamo cento anni come il delinquente morto l'altro giorno un vero delinquente però ci è campato cento anni perché ha saputo mantenere che essendo dell'elite sapeva come fare non sprecando campi morto il problema delle persone che vengono spinti della società a divertirsi a saltare a ballare andare allo stadio andare a vedere qua a sprecare tutta questa energia così vivi meno secondo lei è possibile vivere il processo alchimico in forma inconscia senza che l'io personalità non sappia bene ciò che avviene se viene guidati dalle più profonde grazie saluto io non faccio uso ma si dovrebbe considerare la cannabis come una pianta officinale in alcuni casi si è utilizzata certamente io non sono contro queste cose sono contro l'uso indiscriminato di persone che non sa che si fanno male la cannabis è stata usata sempre nell'alchimia di un certo tipo nella magia di un certo tipo però sotto controllo di di un maestro maestre o quello che sia o sacerdotesse o esseri che la usavano nella loro capacità sbloccante in chi non era capace di entrare nel mondo interiore e quindi gli davano una mano ma non più di là non confondiamoci con con i cosiddetti con le immagini molto hippie dei dei santoni tutti legati tutti sporchi tutti di genere che si fumano il bong e pensano di andare nei cieli effettivamente ci vanno nei cieli ma con la fantasia quindi non è vero che nell'immagine di replay in cui c'è quella con il cerchio qui c'è il laboratorio alchimico in alto c'è l'immagine della cannabis quindi non è contro la cannabis è semplicemente come usi la cannabis è un po differente un pochino come le medicine non è contro il vino ma come lo usi no morfine deleteria però in mia madre che aveva un tumore è una cosa c'è in vecchiaia la usavano per il dolore quindi allora diventa benefica c'è quando serve però se usi la morfina in altre maniere morfine deleteria che poi per quanto riguarda dolcino allora questo può essere risultato di una esistenza precedente cioè è probabile che molto spesso accade questo un processo sia stato fatto precedentemente si riprende nuovamente corpo rimane nel nel diciamo nell'oscurità delle cantine subconsce agisce però non ha sfogo dato dal tappo della educazione e della personalità anagrafica come io la chiamo e quindi questo rimane sotto e rimane una cosa inespressa che da sofferenza e quindi da sofferenza e si sente su uno spinto però non capisce che succede comunque c'è questo a volevo dire mi viene anche comunicato adesso che sono aperte le iscrizioni all'evento da oggi alcuni hanno già scritto però da oggi si aprono ufficialmente le iscrizioni al ritiro va bene ogni tanto sono furbo è perché prendo prendo una via un pochino la devi io quando parlo e poi torniamo nuovamente lì dove torniamo quindi di cosa stiamo parlando stiamo parlando della capacità di azione sul corpo eterico corpo eterico noi leggiamo robert morrow o leggiamo sylvan moldon o leggiamo di gente che va in trance e perde la coscienza noi sappiamo che stanno usando il corpo eterico noi ci sentiamo completamente scarichi dopo che siamo stati in un ospedale per esempio è stato usato consumato da chi aveva bisogno il corpo eterico noi che ne so ci sentiamo pieni di vitalità dopo aver incontrato delle persone o essere stati al mare o in montagna ovunque noi ci sentiamo così perché il corpo eterico si è ricaricato noi abbiamo dormire di dormire abbiamo bisogno di dormire ci svegliamo il corpo eterico si è ricaricato quindi il corpo eterico è una patina tra il corpo fisico prego è il corpo lunare è il corpo lunare quindi non è il corpo lunare è proprio una cosa più densa del corpo lunare una cosa meno densa del corpo fisico è quella cosa che rimane appiccicata al corpo fisico che rimane appiccicata anche dopo la morte e che ne dà la possibilità del dissolvimento del corpo fisico di conseguenza se il corpo fisico rimane solo il corpo eterico non ha agito sul corpo fisico il corpo lunare solo il corpo fisico e eterico io a te potrebbe displicarsi brevemente se i processi fermentativi di certe bevande come birra e vino ressemblino processi alchemici le spinte che se i processi fermentativi sono l'inizio di un processo alchemico uno non l'unico quando infatti si prende un'erba per poterla elaborare quindi per esempio a livello spagirico la prima cosa che si fa quando la si spezzetta la si mette in acqua per estrarre l'alcol in questa maniera più complicato di quello più semplice si mettono dei lieviti o degli zuccheri questo va avanti poi il processo fermentativo il problema della birra è questo si stai vivendo il pintone di un litro benissimo che succede la birra comincia a fermentare dentro di te anche dentro di te di con oltre infatti se tu leggi un libro di alchemico c'è la cre la creazione della birra tenta di far capire ste cose il problema è che se tu questa birra la stai bevendo in un pub e ti stai vedendo una partita di calcio questa fermentazione della birra fa fermentare quelle cose se stai bevendo questa birra e se in contatto e o in compagnia di persone particolari di cui parli di cose particolari fa fermentare quella cosa spero di aver dato uno più una piccola idea di queste cose qui torniamo indietro di conseguenza noi con la pietra di fuoco o chiamata anche magnetica andiamo a toccare il corpo eterico quello che diceva il nostro amico quanto riguarda il mail mail pilar si è una cosa molto mentale e quindi è un'azione simile allo yoga non ti piacerebbe avere qualcosa che quando tu la metti sui punti che regardi dice di fare del mail del pillar agisca da sola cioè ti svegli quel punto particolare da solo senza immaginarlo respirare fare il nome di dio vibrare cose varie bene questo è quello che se fatta bene la pietra di fuoco del secondo grado fa invece di metterti a vibrare il nome divino e lo hava dat non si non si vibra così eh lo dico apposta della gola poggi la pietra di fuoco questo lo mette in movimento no il corpo eterico è ciò che genera l'uovo di protezione come sì quello lì ecco beh beh alla fine il corpo eterico il sì massimo è quello è l'uovo ok eh beh e ultramarine blu eh Gurghe fu molto chiaro in questo quando c'è disse un fachiro ci mette trent'anni per fare la sua opera un mago no un mistico ce ne mette venti un mago ce ne mette dieci un alchimista fa una pillola ed è arrivato nel senso che usa le cose immagini però bisogna essere pronti per queste cose qua perché è da lì che poi sono esplose tutte le droghe che e quindi sono usate in maniera indiscriminata purtroppo purtroppo dicono andando a distruggire ma per droghe intendo pure tutto ciò che sono gli alcolici tutto ciò che che può alterare la coscienza ma non solo la coscienza ma anche il corpo eterico gli alchimisti non hanno bisogno di droghe gli alchimisti veri riescono a fare in maniera prego come ho detto spesso a usare semplici ingredienti tipo la cannella o tipo le ciliegie per dirne uno visto che le ho mangiate oggi a mezzogiorno un po di ciliegie bene a prendere questo e a modificarle come se fossero un qualcosa simile negli effetti a ciò che la gente invece usa in maniera diversa come droga perché perché l'alchimista è capace di portare la materia come ho insegnato un po di anni fa allo stato originario di se stessa di conseguenza da mercurio formale o stato modificato ciliegia viene riportata a mercurio informale o stato non modificato cioè stato assoluto stato neutrale di conseguenza può sapendo dare un'altra specifica a questa materia materia di mercurio universale e farla diventare cannabis cioè farla agire come cannabis quindi non ha bisogno né di acquistare né di fare questo perché avendo la conoscenza della materia e sapendo come trasmutare ad esempio per avere un'idea di tutto ciò possiamo andare a immaginare le lettere trasmutative della cabala che trasmutando creano da 22 infinite combinazioni e quindi ottieni quello che vuoi bene avete un'idea per darvi un'idea per far sì che alcuni effetti dell'alchimia siano permanenti non è necessario prima aver fissato il corpo lunare altrimenti sono effetti passeggeri allora corpo fisico e la materia che vediamo indiscriminata chiamata sostanza come la vediamo nel corpo umano ascoltami bene nel corpo umano la vediamo come sperma e come sangue quella che quando si unisce questa questi due gameti c'è un altro corpo va bene siamo d'accordo con questo quando si unisce che cosa genera genera un corpo eterico chiamata la pietra magnetica o la pietra di fuoco questo corpo eterico entro tre mesi attira una un'intelligenza diciamo così simile all'intelligenza dei genitori e della discendenza altrimenti non nasce anche a livello astrale deve essere tutto fatto bene dico cosa accade questa intelligenza per poter entrare in contatto con la parte più dura dell'essere quindi immaginiamo un punto luminoso e un punto scuro uno sottilissimo uno denso ha bisogno di alcuni corpi di modulazione come dire l'aria l'acqua e la terra quindi ecco perché di conseguenza questo qui va a generare un corpo lunare lunare indica un corpo capace di energia sensitiva cos'è un corpo lunare corpo lunare è un specie di guaina intorno all'intelligenza che è ancora più sottile che è capace di sentire cioè senza il corpo lunare non senti non hai la percezione non senti non hai l'emozione non hai non hai tutte queste cose qua che corrispondono alle emozioni sentimenti ma questo corpo una re ancora troppo sottile e di conseguenza c'è un cuscinetto in mezzo come l'olio che c'è quando ci sono due due ruote che si muovono come l'olio che li fa ruotare chiamato corpo eterico ogni azione avviene sul corpo eterico tu devi passare dal corpo eterico per arrivare al lunare tant'è vero che lo fai ogni notte per dormire se non passi dal corpo eterico cioè facendo la scala non puoi arrivare al lunare ora il lunare lo organizzi lavorando con le pratiche che ho dato e lavorando con pratiche legate all'energia specie energia emotiva sensitiva immaginativa pensativa ma il corpo eterico è quello che il motore della vita faccio un esempio se tu mangi una bistecca di carne l'energia della carne viene usata dal corpo eterico che è chiamato vi da a pra na chi ci e chi più ne ha più ne metto il corpo lunare è semplicemente un rivestimento più sottile che è legato a un livello più alto dell'essere umano ancora legato a il sentire quindi se noi immaginassimo immagineremo un'intelligenza che in un corpo fisico senza il corpo lunare ma direttamente come se fosse possibile solo con il corpo mercuriale che intelligenza pura intelletto senza emozioni noi questo qui non riuscirebbe a sentire non riuscirebbe a toccare non riuscirebbe a vedere non avrebbe i cinque sensi oppure non riuscirebbe a sentire emozioni infatti in molti esseri che in cui non ci sono le emozioni o i sentimenti c'è un difetto del corpo lunare quindi la tua domanda è ma detto per far sì che alcuni effetti d'alchimia sono permanenti non è sono permanenti se tu agisci dal basso verso l'altro l'alto prima con le purificazioni fisiche distillazione così che io ho dato poi con vai a fare la pietra di primo grado sali quindi stabilizzi il corpo poi passi alla pietra di secondo grado di solito se si lavora solo sul corpo lunare si lavora a livello di misticismo ok di misticismo quindi padre pio prega prega oppure tutti con gli atti mistici da bhakti yoga lavorano a livello di solo di col c'è il sentire l'emozione quindi il mettere in forma di solito c'è il rituale o la preghiera o la meditazione che vanno a sistemare il sentire quindi la sensitività la filosofia per esempio agisce sul corpo intellettuale che però di essere stato chiaro per quanto possa essere poi il libro di regar di le pede filosofale attendibile sni ni c'è tanto detto e non detto regar di prendetelo come mago come filosofo come filosofo della natura o alchimista poi legge ti libri di fulcanelli lì ci sono cose come si deve poi tempo fa mi ha incuriosito e ho preso il manuale del distillatore ricorista di piasi dell'area la epli lo facevano sei anno se hanno cercato di nascondere d'alchimia anche lì l'alchimia è la vita non è questione di nascondere l'alchimia è comunque alchimia è adesso io sto guardando il mio monitor di fronte sta accadendo una trasmutazione della impulsi elettrici in impulsi luminosi e io lo sto vedendo questa è alchimia della trasmutazione di la la trasmutazione degli impulsi luminosi che arrivano a mio occhio che alchemicamente trasmutano questi in corrente elettrica del nervo ottico che vanno a trasmutare ancora dal mio cervello alla mia quindi è tutta una questione di trasmutazione l'alchimia è ovunque l'alchimia è la legge assoluta della natura non c'è altro oltre l'alchimia non c'è non esiste ok poi i battiti cardiaci potrebbero essere impulsi mandati dall'anima per avere un feedback del piano della materia beh qui entriamo qualcosa di ancora più profondo perché il battito cardiaco cioè il 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 cuore è la la base di dove è dove si siede l'anima umana no né se qualcuno ha letto non mi va mai dire se prendete il mio libro se qualcuno ha letto mio libro sul sulle tecniche e di magia iniziale si parla proprio che devi toccarvi nel cuore e ci sono tanti modi quindi i battiti cardici si sono una specie di apparizione di ciò che sta avvenendo nel corpo lunare e di conseguenza nel corpo astrale alto strale unione di mercuriale e lunare poi buongiorno buongiorno a te gli innesti che facevano mio nonno da bravo contadino lui non lo sapeva di fare è un atto di magia usando il maschile femminile è un'alchimia pura di magia alchimia chiamiamo anche la magia la stessa magia agisce per amore quindi attenzione che ciò che ha detto maria l'ebrea l'ha detto una donna è vuoi la segretezza cioè vuoi la conoscenza aspettate che può darsi che qua mi è rimasta tutto tutto lo sta l'avevo vabbè comunque d'accordo era bello qui averla dove forma antiquata comunque vabbè eccolo qua eccolo qua allora è molto interessante leggere questa piccola parte di di documento no allora contributo eccolo qui allora eccolo qua nishi ecco cosa diceva maria l'ebrea unisci il maschio e la femmina e troverai ciò che cerchi quindi cosa sta succedendo oggi dove vogliono portare l'intelligente capisce chi è moderno oppure chi è progressista no rimarrà dove sta anno che ce ne frega ho detto prima ero ottimista a dire che il 20 per cento ci hanno l'anima sul pianeta da quando guardo mi sa che sono il 5 per cento il 7 per cento da quando vedo tutte le cavolate che sto guardando dobbiamo noi possiamo formarla quest'anima che l'unione di corpo lunare e corpo mercuriale ma noi dobbiamo cominciare a formare il lunare e dobbiamo passare per il per l'eterico perché ho deciso di dare questo perché in questo periodo la gente che sta praticando diventa molto lenta e quindi questo da un impulso alla parte eterica per andare a muovere direttamente direi quasi con il fuoco mettere a cuocere come se si sta cuocendo la pastina troppo piano piano e alziamo un po il fuoco per poi croli sosteneva che le emozioni sono delle terie se non guidate dalla spada della ragione così come la sola spada senza certamente questo è normale perché una emozione un senso emotivo non dominato cioè non più che dominato attenzione che per dominato non intendo schiacciato intendo incanalato e deleterio invece così come una troppa ragione è arida no per quanto riguarda senza un po il fuoco c'è il fuoco emotivo quindi le due cose rendono la persona reale quindi ti fanno salire e come le due ali dell'aereo no una è la ragione l'altra è l'emozione beh non per niente si dice solo dall'equilibrio e dall'uso di odd intelligenza intelletto per la nezza ossia emozione sentimento fatti bene è possibile avere le reazioni il fuoco e va a collegarsi annezza se vogliamo sia l'emozione ecco perché ho detto attenzione che qui andiamo a toccare la parte magnetica dell'uomo quindi chi è a livello un po interno emotivamente un po barcollante se fa le cose come si deve va a trovare una certo equilibrio che porta il fuoco al che quindi pietra di secondo grado questo noi andremo a fare questo ho potuto spiegare questo mi è stato diciamo anche consigliato di fare per dare una spinta maggiore visto tutti i progressi che stanno accadendo sul pianeta e questioni di equilibrio sempre sempre equilibrio se non c'è equilibrio si dice la pancia e dove c'è l'emozione e la mente c'è il cervello devono essere sempre equilibrate dal cuore il cuore conosce ragioni che nella pancia ne conosce perché l'emozione viene quantomeno tra aspetti e non la vuoi ricordate solo quando dovevate fare degli esami e lo stomaco andava sotto sopra e dovete dovete correre in bagno oppure ricordate quando tentavate di capire le ragioni di alcune persone con la mente cose varie non potendole comprendere perché bisogna entrarci dentro il cuore però può riuscire questa è l'arte dell'alchimia perché l'alchimia è la scienza con un cuore cioè la scienza religiosa la scienza magica chiamata come volete o la chimica superiore chiamatela come volete quindi qui entriamo né in qualcosa di differente mentre la chimica la biologia vedono solo la materia morta e non sanno da dove arriva la vita non sanno come si accende l'alchimia non è altro che la scienza della manipolazione della vita vi riporto ancora a maria l'ebrea unisci il maschio e la femmina troverai ciò che cerchi e la cosa e io ve lo voglio leggere sta cosa molto interessante questo documento l'ho tradotto dall'inglese che me la mandarono in inglese si dice che l'alchimia europea abbia avuto origine nel vicino oriente discepolo in egitto in palestina non prima del terzo secolo avanti cristo secondo documenti attribuiti allo pseudo democrito che si dice fiorisse nel primo secolo dopo cristo ma tali documenti erano spesso collegati anche a bolo di mendes in egitto e cui opere sono andate molto prima sono datate molto prima secondo secolo e successivamente dallo scrittore gnostico zosimo di panopoli del quarto secolo avanti dopo cristo indica tutto ciò che l'alchimia iniziò ricordati con gli scritti di maria l'ebrea in palestina del secondo secolo dopo cristo tutte queste prove portano lì l'autore noto questo saltiamo queste leggende origine democrazia saltiamo interessante l'enigmatica maria probabilmente probabilmente fiorì più o meno nello stesso periodo di bolo di mendes del secondo secolo avanti cristo sulla base di prove testuali zosimo la chiamava una degli antichi e la prima io ho sempre detto sempre la mia alchimia andate a vedere viene da lì il che ha portato alcuni storici a chiedersi se non fosse in realtà una fonte più antica poiché i documenti che portano il suo nome non esistono più se non incitazioni ed estratti di altri è difficile determinare con certezza ulteriori dettagli sulla sua vita ma ciò che resta del suo lavoro è importante e avvincente perché ovviamente il fondamento di tutto ciò che sarebbe apparso negli anni successivi sotto la rubrica generale di alchimia tutto parte delle io facevano parte delle lezioni conoscitive dell'ordine che io via via a chi fa parte dell'academy dell'ode vengono vengono date quindi vengono aperte poi in effetti una cucina comune e in cucina è comune per esempio negli strumenti di laboratorio il bagnomaria per esempio portano il suo nome poiché a lei viene attribuito la sua invenzione in effetti i suoi scritti così come sono sopravvissuti erano pieni di descrizioni di attrezzature di laboratorio di come avrebbero dovuto essere progettate costruite e sigillate ermeticamente le sue descrizioni del processo alchemico sono anche il modello per tipo di linguaggio codificato dell'alchimia linguaggio che apparirebbe poi nei testi degli alchimisti medievali rinascimentali discepoli iniziamo questa discussione sulla componente ermetica dell'alchimia di andando a studiare con perfezione ecco non riusciva vedere il testo che ti verrà dato e con alchimia l'ebrea perché lei fu la prima alchimista occidentale di cui abbiamo prove reali una donna è una donna in un campo che sembra essere stato dominato dagli uomini fu collegata ai misteri ermetici anche attraverso un documento che porta il suo nome il dialogo di maria e aros sul magistero di ermes piccolo trattato latino probabilmente tratto da un originale arabo o greco ok è importante questo perché così andiamo a capire di cosa andiamo a fare all'incontro greco dove sta pubblicato alla fine del xvi secolo di provenienza incerta collega la leggenda di maria l'ebrea con ermes egiziano in questo documento che ha la forma di un dialogo tra maria e un re aros orus vengono discussi diversi metodi per realizzare la pietra di fuoco sempre con riferimento a ermes questo testo potrebbe essere un'invenzione successiva di uno scrittore che voleva sottolineare un legame tra maria e la rinascita popolare dell'ermetismo che si stava verificando in europa in quel periodo così nell'opera di mike michael mayer simbola aurea mensa duodecim nazionum pubblicata francoforte nel 1617 al culmine del furore rosacrociano iniziato con la pubblicazione della fama e della confessio rispettivamente nel 1614 nel 1315 maria l'ebrea è raffigurata in prossimità collegiale di ermes trismegisto potrebbero essere stati uniti nell'immaginazione popolare semplicemente a causa della loro antichità e della loro reputazione di fonti di saggezza ermes era considerato dai greci il loro equivalente culturale del dio egiziano tot entrambi erano dei dell'apprendimento della saggezza della scrittura delle scienze esoteriche questo riconoscimento che il dio egiziano e il dio greco erano identici indica un profondo sentimento universalista che contribuì al tipo di filosofia sincretica che il segno distintivo dell'ermetismo di quel periodo nel terzo e quarto secolo d.c. anche gli arabi e i persiani si erano incorporati nell'ermes con le loro cosmologie e poi successivamente attenzione gli scrittori islamici identificarono ermes con idris o enoch e ho fatto due libri come ho affermato anche alchimia e quindi con uno dei profeti in effetti gran parte di ciò che l'europa medievale rinascimentale sapeva di ermes proviene da fonte arabe che erano state tradotte in latino questa può essere considerata l'origine della filosofia tradizionalista o della filosofia perennis basata sulle teorie da ficino a picco della mirandola e all'accademia e poi andiamo avanti eccetera eccetera quindi andiamo a fare questo andiamo a studiare questo a impararlo a imparare di farlo a casa nostra e metterlo in movimento nei momenti giusti nei situazioni giuste noi la proveremo fatta da me in livello inferiore nel senso che non la non la faremo direttamente nei periodi che servono per farla perché la faremo dal 15 16 17 ma avrà già almeno il 20 30 per cento di potenza e quindi la sperimenterete mentre poi voi avrete le descrizioni appunto per farla che possa funzionare al cento per cento quindi questo è quello che veniva trasmesso da maria d'ebrea quando ripeto andava a dire unisci il basco e la femmina e troverai ciò che cerchi maschio significa una materia positiva a questo punto elettrica o fisica femmina una materia come il fuoco che poi genera insieme generano quindi femminile molto forte molto molto avvolgente e questo lo vedo possiamo vedere nelle immagini anche dell'antichità specialmente anche orientale in cui shakti e shiva sono uniti no e quindi uno avvolge l'altro come fiamma per indicare lo stato della materia necessario che noi andiamo a generare affinché ci sia una specie di produzione continua nell'oggetto cioè non c'è una fine una fine ma una produzione continua come diciamo un rapporto sessuale fruttificante continuo perché nella materia nulla può accadere se i due poli non si uniscono non c'è niente da fare con la pace di tutti coloro che pensano sbagliando cose differenti poi io adesso cosa dici qua si è questione poi andrea e vorrei aggiungere se posso prego che l'alchimia cinese era già per sì tutto viene dell'alchimia cinese allora la ragione l'alchimia cinese sia nei dan che wei dan quindi sia interna che esterna era a giù era praticata già nel quarto secolo avanti ma anche prima l'alchimia cinese ha generato il rasayana indiano le dal rasayana indiano passo direttamente alla sumeria passo alla palestina passo all'egitto passo alla grecia passo poi quindi sì è così poi hermes il mediatore il mercurio che sove riunisce certamente è così bene questo andremo a fare impareremo questo e poi quindi da oggi si apre l'iscrizione ufficiale vi ripeto le info canale telegram chiocciola info sapienza monia canale con tutte le notifiche contenuti esclusivi due se non si usa telegram è possibile ricevere le notifiche su whatsapp inviando un messaggio al numero più 66 99 390 88 33 scrivendo va tre per domande e chiarimenti ok bene questo è questo volevo dire se siete interessati sono lì ne parleremo ancora spero di essere stato chiaro per quello che si può dire ma non perché c'è un segreto papate ci vogliono i momenti periodi le materie giuste per farlo questa cosa che non è che prendi la banana e che ne so è una cosa così lo fai no cioè ci vuole le materie giuste ma perché se funziona e se è ben diretta può funzionare per caso potrebbe funzionare se non è fatta bene agisce sulla parte magnetica dell'essere umano lo fa sballare c'è bisogna che siano tutto è l'attuale tentativo ideologico di annullare a questo che ok bene e questo volevo dire è sparito quando il massimo ci si può iscrivere con come termini ma non lo so sinceramente scrivi c'è la persona che accoglie le iscrizioni ordinativo ideologico di nulla le polità mi sembra comunque alquanto golf e grottesco destinata a fallire miseramente beh certo che fallirà non può fallire c'è non può avere successo un tentativo di annullare il maschile il femminile proprio quello è dall'eternità e l'eternità e la realtà è un tentativo di alcuni personaggi molto malefici di mettere confusione perché hanno paura che la gente che per loro è sotto alzi la testa in alto e dica ma non è che la colpa sta là invece di guardare orizzontale e pensare ora fomentano scontri e tutta teoria per poter mettere caos nella gente incapacità di pensiero eccetera eccetera attenti è una cosa politica non può mai succedere con tutto il rispetto di chi ha altre tendenze sessuali transgender omo sex qualsiasi non c'è nessun problema ma la e la politica di mischiare i generi che sbagliati i generi possono essere tanti tranquillamente uno lo vive basta che vive la sua cosa e quindi senza problemi ok mi è stato detto di non parlare di queste cose quindi cesso bene e vi aspetto se vi è piaciuto mettete un like mi date una mano per quanto riguarda essere più più visto se vogliamo poi finendo di studiare il suo libro studierò bene per così sai cosa fare lì è vero non vorrei fare molto di più sono in attesa ma da solo non sono sempre possibili sempre qua un grazie grazie arrivederci e le iscrizioni sono aperte scusate ma mi ha detto di non parlare di queste questioni quindi l'ordine osserva sono sincero quindi perché sono successe delle cose non eccessivamente e quindi non devo parlare di queste cose parlo di alchimia di magia e cos'è mai penso che lo capite ma mi avete capito arrivederci